Ennesima vittoria per la squadra di coach Giovi nella difficile trasferta siciliana. Recupero super nel secondo parziale, tra balli MVP. La schiacciatrice di Perugia. A un tratto c'era la percezione di essere invincibili. Prestazione maiuscola di una Bartocini Fortinfissi Perugia che centra l'ottavo successo stagionale su altrettante partite disputate. Nel pomeriggio di domenica 19 novembre, le Black Angels espugnano in tre set il difficile campo dell'Accademia Città di Messina, arrivata all'incontro come seconda forza del campionato a quota 18 punti insieme a Busto Arsizio. Sirressi e compagni non hanno fatto sconti alla formazione di coach Bonafede ed hanno mostrato i muscoli e, soprattutto, un carattere di ferro, specie nel secondo parziale, quando, sotto per 24 a 20, le ombre, sfruttando anche qualche regalo delle siciliane, hanno portato il parziale ai vantaggi per poi vincerlo con il punteggio di 25 a 27. Combattuto anche il primo, terminato poi 22 a 25, mentre il terzo set ha visto una Bartocini trovare subito un largo vantaggio poi gestito bene fino al 19 a 25 finale. Il premio di MVP va a una traballi formato super. 16 i punti messi a terra dalla numero 2. Ma un plauso va fatto a tutte le ragazze scese in campo, bravissime a tenere i nervi saldi quando Messina ha provato con tutte le armi a disposizione a ribaltare l'inerzia del match. Le ragazze del presidente Antonio Bartocini mantengono così la vetta volando a quota 22, staccando proprio l'Accademia Città di Messina di quattro lunghezze e mettendo a meno due un abusto arsizio che vince solo al quinto set in casa di Soverato. E adesso arriva il turno infrasettimanale che chiuderà la prima parte della regular season, mercoledì 22 novembre, con fischio d'inizio alle ore 15 e 30. La Bartocini i fortinfissi affronterà al Palabarton la formazione comasca dell'Albese. È stata una partita come ce l'aspettavamo, un 3-0 bugiardo. Nel punteggio poi si vede anche nell'andamento dei set. Messina è una squadra costruita per fare molto bene, come noi, come tante altre squadre che vogliono fare questo salto. Quindi ci aspettavamo una lotta e così è stato. Una lotta nel gioco, nella qualità di quello che abbiamo fatto sia noi che loro, nell'atteggiamento, nell'energia, in tutto quello che ci porta a fare una partita. E quindi penso che la cosa bella sia al di là del risultato, che ovviamente ci dà molto, sia aver giocato e lottato contro una squadra forte, a lungo e anche in un momento molto nero nel secondo set. Le ragazze sono state brave a trovare la forza e la qualità del gioco per provare a riavvicinarsi e a tenere la partita viva. Abbiamo vinto per due palloni, quindi la differenza è stata poca, però è stato un bel segnale, secondo me, per noi. E penso che l'inizio del terzo sia stata la conseguenza della fine del secondo. Tantissimo, ci tenevamo tantissimo a fare bene questa trasferta, questa partita, perché comunque ha grosso peso sulla classifica in questo momento, dopo la vittoria su Busto, che ci ha portato ad essere prima per un punto soltanto. Quindi in realtà era un primo in classifica che è poco pesante in questo momento e il campionato è ancora lungo, siamo soltanto alla fine del giro d'andata e vogliamo finire questo giro d'andata togliendoci le soddisfazioni che ci meritiamo. Quindi l'entusiasmo credo che si sia visto durante tutta la partita, credo, perché è lo stesso entusiasmo che secondo me ci ha fatto recuperare nel secondo set. C'è stato un momento in cui tutte insieme ci siamo sentite davvero invincibili perché quell'entusiasmo proprio di giocare a pallavolo insieme, proprio tra di noi, anche tra le persone, ci ha portato a questo risultato.